...dove ha percorso tutti i carri della carriera su comandante, un po' su tutti i libri, poi ce lo dirà. Altra particolarità è stato uno dei responsabili della scuola di Arghelo dell'Italia. All'Italia aveva una scuola di volo, pure lei, lui è stato uno dei responsabili, vuol dire che è esperto anche di questo tipo di addestramento. E poi è stato anche ispettore Elena, che quindi ha visto anche l'altra faccia della medaglia, cioè ha visto le scuole di volo dalla parte dell'autorità. Lascio a te la parola, non è bene. Grazie, il mio nome è Alberto Passeronchi, sono il direttore di questa scuola da quando è nata 4 anni fa e mi occupo di addestramento da 40 anni. Prima in Arghelo, poi in Enac come ispettore di volo. Sono stato training captain nella Flight Safety International Academy di Barrow Beach e nella International Flight Training Academy di Beckerfield, California. Abbiamo qui con noi un esempio vivente del prodotto nostro, il prodotto pontico che ha seguito il corso TPL integrato da noi, è uscito un anno fa, ottobre mese scorso, e attualmente è prima ufficiale il Rainer.